Sempre presente il commissario Legnini qua nelle aule parlamentari, lo abbiamo intercettato e abbiamo sentito una sua dichiarazione relativamente a un ultimo provvedimento importante all'ordine del giorno a sostegno delle comunità ammalorate dall'alluvione. Sentiamo l'intervista. Commissario Legnini, la sua presenza nelle aule parlamentari è sempre costante. Diceva prima con la presenza di diversi parlamentari che ha approvato un'importante ordinanza per l'isola di Ischia. Di che si tratta? Si tratta del piano degli interventi urgenti per il contrasto al dissesto ideologico, il piano organico, quello strutturale, quello che serve per restituire negli anni sicurezza al territorio e ai cittadini di Casamicciola e degli altri comuni dell'isola. Il piano riguarda solo il comune di Casamicciola, la ricognizione degli interventi necessari riguarda anche gli altri comuni. Adesso, ieri ho adottato l'ordinanza, questa mattina è stata trasmessa al governo, disponiamo di uno strumento di programmazione di ciò che serve sull'isola sotto il profilo ideologico che fino a questo momento non c'era. Per l'uomo di strada, in poche parole, di che si tratta? Quali saranno i benefici per l'isola? Per l'uomo di strada, per i cittadini, significa avere chiaro che cosa si deve fare, come si deve fare, quando si deve fare per essere finalmente sicuri, vivere e lavorare finalmente in sicurezza sull'isola. Ultima domanda, è nato un intergruppo parlamentare a sostegno anche delle isole minori, ci sono oltre 45 parlamentari, c'è stata una conferenza stampa, c'è grande fermento, cosa può rappresentare, essendo anche bipartisan, parlamentari del PD, 5 Stelle, Forza Italia, eccetera, cosa può rappresentare per l'isola se ci sarà anche l'impegno del commissariato? Ho partecipato alla prima uscita pubblica di questo gruppo di parlamentari a Ischia qualche tempo fa, lì in quell'occasione ho detto, ribadisco, che guardo con molta simpatia, sostegno e penso che un lavoro di coordinamento, di raccordo, di confronto, di elaborazione di proposte sulle isole minori che hanno molteplici problemi da affrontare continuamente non può che essere un fatto molto positivo. A proposito dei provvedimenti per le isole minori, ora ci sarà il decreto Emilia Romagna, decreto Luvione, dal suo avviso ci sarà qualche possibilità di presentare qualche proposta anche per l'isola d'Ischia? Per il fenomeno dell'evento franoso di Ischia noi abbiamo ottenuto norme importanti, altre devono essere emanate, ogni veicolo è quello buono, vedremo, l'Emilia Romagna ha la priorità assoluta e ci mancherebbe altro, io mi auguro ci possa essere spazio, ma su questo ci confronteremo con il Ministro e con il Governo.